La gente l'ha affrontata benissimo, ha cominciato con te, siamo stati un po' sottimali. Non siamo stati bravi a chiudermi, perché abbiamo creato tanto e abbiamo fatto in solo azione 3-4 piccoli errori. 3-4 piccoli errori, ciao, 3-4 piccoli errori che ci sono passati molto, perché i due punti alla lunga si potranno recuperare tranquillamente, però era una buona elezione di fiducia partire subito con il risultato qui. Quindi è un peccato appunto di essere risultato, però rimango contento perché un allenatore è giusto che analizzi una partita sotto il profilo della prestazione, non solamente dai risultati. La squadra io me la costruisco da solo, quindi credo di aver fatto le scelte giuste e credo che i ragazzi prima o poi, dopo il superamento di questa difficoltà iniziale dovuta al lavoro fatto, verranno fuori e poi vincere anche un po' di emozione, un po' di noviziato per la categoria. I giovani tutti quanti, i giovani, anche chi non è andato, tutti molto belli. Ripeto, è un peccato perché 2-3 piccoli errori hanno fatto sì che non si portasse a casa il risultato. Va bene, grazie.